La mia carica è una carica di Fiat Sono qui oggi non solo come il presidente del Fiat ma come il presidente del Ferrari per presentarvi la più innovativa che mai ha fatto in nostra storia Questo è il 458 Italia e questo è un carica con 360 gradi innovazione e è un mix di ingredienti tipici Ferrari molto innovativi o anche tecnologia extrema passione e design grazie alla collaborazione con Pininfarina come sempre e l'emozione del drive e oggi introduciamo un carico che è completamente diverso perché vogliamo fare differenti Ferraris per differenti Ferraristi California è un Gt California è un carico con una sala dentro questo è un carico estremo è un carico nuovo nuova 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 inovazione 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 Grazie a tutti.